Buongiorno, mi chiamo Simona. La prima volta che ho provato il Biose Your Shower Heads era in 2012, quando sono venuta in Corea a trovare degli amici. L'ho solo provato due o tre volte in alcuni giorni e ho subito visto che c'erano dei veri risultati sulla mia pelle e sui miei capelli. Io ho tendenza ad avere la pelle molto secca, un po' rossa anche, e dopo solo alcuni utilizzi ho visto che il rossore era già diminuito di molto e i miei capelli erano anche più morbidi e anche più brillanti.